17 vini doc, 12.000 ettari di vigneti e oltre 700.000 ettolitri di vino nel 2008, questi i dati della produzione enologica del territorio romano che rappresenta il 47% di quella del Lazio. Con queste premesse l'amministrazione provinciale e 38 produttori locali volano a Verona per la 44esima edizione di Vinitaly. Anche quest'anno, dice l'assessore all'agricoltura Aurelio Lofazio, abbiamo messo in prima linea i nostri migliori vini. Per resumo che avremo dei risultati abbastanza buoni, per non dire ottimi, ripeto i livelli di qualità dei nostri vini rapportati anche alla qualità e al prezzo sono sicuramente i migliori che ci sono in questo momento nel Lazio e per il Vinitaly ci siamo mossi come provincia di Roma dando notizia della nostra nuova enoteca. Nicola Zingaretti in un incontro con il pubblico di Vinitaly infatti ha raccontato l'esperienza dell'enoteca provincia romana, un locale accogliente nel cuore di Roma dove si possono assaggiare i prodotti tipici che è anche un importante strumento di marketing territoriale.